Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video sul canale di Fumetto Online con il canonico episodio del topo della settimana, oggi con, oltre al fumetto di Topolino, anche il primo numero dei paper dollari con anche l'album, come vi avevo anticipato nei video precedenti e direi di iniziare subito... Ecco fatto! Questo è l'album, veramente ben fatto, copertina in plastica ovviamente, bella la miniatura, disegnata veramente con cura, e qua dentro abbiamo le quattro pagine per le otto banconote. Qui abbiamo la prima banconota, quella di Rocadak, disegnata in queste molto finemente, belle, questa avrebbe un valore di 200 dollari, e la vado a mettere all'interno dell'album. Questa è la prima banconota all'interno dell'album paper dollari, lo potete vedere bene, anche il retro. Devo dire che si tratta di una bella uscita, posso dirmi soddisfatto, aspettavo un nuovo collezionabile, una nuova serie di collezionabili da parte di Topolino e questi paper dollari. Devo dire che anche questo è un'uscita abbastanza imperdibile e ogni tanto è bello anche variare dai soliti gadget con qualcosa di più peculiare come questi. Come vi avevo anticipato, abbiamo anche il fumetto, naturalmente, che è il primo numero, il primo volume con cui possiamo trovare i paper dollari. Numero 3346, con Pippo e Topolino che fanno sport sulla neve con lo slittino. Abbiamo il secondo episodio di Topolino, Nemici ovunque, episodio 2, abbiamo poi anche Zio Paperone e il Bricco del Coboldo, Un Salto nel Passato, Delizia di Cioccolato, Benessere Pap, Pico dei Papaperi, se la cura autostimante, Paperino, Macchinista, Velocista e Young Indiana, Amuleto Magico, episodio 2, cortocircuito. Secondo e penultimo episodio, saga che conterà solamente tre episodi invece dei quattro canonici, in questo episodio Double Duck è alle prese con Actinia, ancora l'organizzazione criminale infiltrata in pressoché ogni sistema organizzativo della città che preoccupa l'agenzia per cui Double Duck lavora e si scervella in tutti i modi per riuscire a capire dove e come trovarli e nel frattempo deve anche risolvere alcuni problemi riguardanti ospiti indesiderati. Storia breve, o comunque si fa leggere molto velocemente, che devo dire non fa altro che accendere in me la voglia di vederla terminare in senso buono, voglio sapere come va a finire, come il nostro Double Duck riuscirà a risolvere il problema con Actinia. Andiamo avanti con Zipo Perone e il Brico del Coboldo, storia che vede il protagonista Paperino che si sveglia con una strana barba di grandi grandi dimensioni e Paperino subito non se ne accorge, poi invece si vede allo specchio e nota questa lunghissima barba che va in giro per la città e lo collegherà a qualcosa o forse a qualcuno. Anche questa storia, devo dire, divertente, scritta, ideata, sceneggiata e disegnata da Enrico Faccini, molto divertente e anche originale perché non capita spesso di vedere dei paperi con la barba. Andiamo con un approfondimento calcistico, tema calcistico, in cui si parla di colori nel calcio. Abbiamo un interessante approfondimento su perché gli azzurri sono azzurri, così è titolato questo. E ogni squadra ha i suoi colori, per i suoi colori niente è lasciato al caso. Per esempio, se il Milan ha i colori rosso e nero, il fuoco e il nero la paura che incutano negli avversari, la cui controparte milanese l'Inter, di cui io sono tifoso, ha i colori diametralmente opposti, ossia sempre il nero che gli accomuna, ma il blu al posto del rosso. Questo articolo che ho trovato molto particolare e molto curioso, Wing Walking, Accolpazie tra nuvole. La storia di questa ragazza, pilotessa, si chiama Daniele, cresciuta in un poesino dell'Inghilterra, che va in giro per l'Europa e il mondo a fare spettacoli con il suo aeroplano, il suo biplano rosa. E' un servizio tutto da leggere con questa ragazza eccentrica che fa evoluzioni tra le nuvole. Con un salto nel passato, Delizia di cioccolato, storia che vede impegnato Pippo e il professor Zapotec, perché Papierino è occupato con un amico di lunga data, Macchia Nera, e nella storia, soggetta e sceneggiatore di Massimiliano Valentini, disegni di Fabrizio Petrossi, vediamo Pippo e Zapotec paracadutati nella Vienna del 1832. Le prese con niente meno che il dolce Sacre Torte. Stiamo oltre con Pico dei Paparis e la cura autostimante, storia che vede Archimede un po' alle strette, perché dice di non riuscire più a inventare un blocco. Chi, quale grande artista non è mai passato attraverso un blocco, e Pico dei Paparis, che non vedeva l'amico Archimede da parecchio, e decide di fargli visita e di aiutarlo. Grazie alle sue numerose lauree, vuole aiutarlo a superare il suo blocco. Papierino, macchinista velocista, storia da un carattere molto nostalgico, con soggetta e sceneggiatore di Thomas Schroeder e Marco Rota, disegni di Marco Rota. Questo tratto un po' vintage, si può riconoscere chiaramente a di Marco Rota, vede Papierino ossessionato dai treni, e nel corso della storia, oltre ai modellini, sfocerà anche nei treni veri, compiendo un vero e proprio disastro. Young Indiana, l'amuleto magico. Ormai possiamo dire che si tratti di una vera e propria saga, di una vera e propria serie di storie, tutte avventate nello stesso universo, sia di Young Indiana alle prese, con le sue avventure nell'università di Oxbridge, parecchio tempo fa, in cui avrà l'occasione di cimentarsi con un amuleto magico, appunto, rinvenuto nei sotterranei della sua università. E direi che anche per oggi abbiamo detto tutto quello che bisognava dire, ogni settimana al giovedì con il topo della settimana, e a breve, ossia da settimana prossima, quindi probabilmente parliamo di venerdì o sabato, uscirà il video sulla recensione di Double Duck e cortocircuito, storia che ho aspettato da parecchio e non mi sta assolutamente deludendo, anzi, la sto leggendo con molta passione, e vi lascio con questa immagine dei paper dollari e del topolino della settimana, mentre vi dico che, come sempre, mi auguro che il video vi sia piaciuto, nel caso di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, e, come sempre, vi auguro una buona giornata o una buona serata.